Ryanair si è impegnata a rimborsare oltre un milione e mezzo di euro ai consumatori che hanno sostenuto costi extra del check-in. Secondo l'antitrasse, infatti, le indicazioni fornite dalla compagna aerea sul possibile aggravio di costi in caso di mancato check-in online entro il termine di scadenza fissato da Ryanair, potevano risultare ingannivoli. Ryanair rimborserà integralmente per un importo pari a 55 euro tutti i consumatori che tra il 2021 e il 2023 hanno inviato un reclamo alla società.